Com'è stato il lavoro in questa settimana? Il lavoro è quello che impostiamo tutte le settimane, chiaramente poi andando a lavorare, appunto in base a quelle che sono alcune situazioni che vogliamo poi riportare in campo, come ne ho. Ecco, non hai squalificati dall'infermeria, qualche novità? Ma al momento non ci sono novità, ci sono un paio di situazioni sotto controllo, e veniamo poi da qui a sabato, ancora ci sono qualche raravetto per giudicare tutti e valutare tutti.